signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale una delle lamentele che sento più spesso ripetere dai giocatori di ruolo c'è anche gente che mi ha scritto in privato per chiedermi a riguardo è la questione del non finire le campagne a quanto pare pochissime persone hanno mai effettivamente finito una campagna di un gioco di ruolo normalmente questo viene sempre visto come qualcosa di terribilmente negativo quindi prima di passare con le cose più pesanti dato che siamo all'inizio dell'anno scolastico mettiamola così ho deciso di prendere un attimo di tempo questa settimana e di parlare sul perché le campagne non finiscono e come mai questa non debba necessariamente essere una cosa negativa come ho detto non pensiate che il fatto che la vostra campagna sia rimasta incompleta sia qualcosa di terribile o che sia la peggiore delle ipotesi sicuramente un'opera per considerarsi completa deve avere un inizio uno svolgimento e una fine e la fine importante tanto quanto le altre parti ma voi state masterando un gioco di ruolo non state scrivendo un romanzo o la sceneggiatura di un film una storia deve essere pensata per essere completa ma la campagna non è la storia è il raccoglitore all'interno cui vengono raccolte tutte le singole storie come abbiamo visto nel video della settimana scorsa una campagna è l'insieme delle saghe che la compongono ma parlando in un'ottica più generale nel gioco di ruolo la storia più importante è quella che state vivendo adesso in questo momento al vostro tavolo è più importante sapere se adesso i giocatori riusciranno a scappare dai pirati che gli hanno fatto prigionieri che sapere se tra due anni e magari dieci anni in tempo di gioco i mitici avventurieri riusciranno a uccidere il signore del male come master voi dovete sempre tenere presente il vostro dovere autoriale di portare a compimento un'opera che avete cominciato sicuramente non è una manovra corretta nei confronti dei giocatori iniziare una campagna che non avete intenzione di portare a termine ma in un gioco di ruolo voi non siete solo l'autore della storia siete anche parte del pubblico perché l'altra metà dell'autorialità è quella del party che insieme a voi crea la storia e fa da spettatore per la stessa e tra i diritti del pubblico c'è anche quello di perdere interesse verso un'opera se dopo aver letto il primo libro di una serie o guardato la prima stagione di un telefilm o visto il primo tempo di un film vi accorgeste che non siete interessati a quell'opera la cosa vi sta annoiando non vi interessa o semplicemente non avete tempo per andare avanti con quella cosa nessuno vi verrebbe a dire che state sbagliando e dovete perseguitare uno spettatore ha diritto ad annoiarsi e smettere di seguire lo stesso ragionamento vale per una campagna in un gioco di ruolo se a un certo punto ci si accorge che la campagna non è più interessante il tavolo sannoia tutto quello che si poteva raccontare è stato raccontato a quel punto è molto meglio cambiare le cose cambiare la storia cambiare il master cambiare proprio il tavolo cambiare passare un nuovo sistema un nuovo regolamento lo stesso fatto che una quest non sia l'opera di un singolo ma l'opera di un insieme di autori il master i giocatori tutto il tavolo potrebbe far perdere senso a una campagna anche solo per l'elevato numero di defezioni o il troppo cambiamento tra queste persone in una campagna che duri magari tre o quattro anni non è così inverosimile pensare che la gente che arrivi al finale non sia quella con cui la campagna è partita magari qualche giocatore ha smesso di giocare si è trasferito non può più venire magari altra gente è arrivata nuova per sostituire quei giocatori o si è aggiunta al gruppo per altri motivi si potrebbe arrivare a un punto in cui la maggior parte delle persone presenti al tavolo in quella storia non sono le persone con cui quella storia è iniziata e a quel punto mettetela come volete la campagna oramai è già finita ma al che vada voi state portando avanti una nuova campagna con dei nuovi autori con una diversa visione e probabilmente anche una diversa narrazione non è necessario che voi interrompiate la campagna però se vi rendete conto di essere in situazione del genere sarebbe intellettualmente onesto prendervi un attimo di tempo piuttosto organizzare una sorta di nuova sessione zero con il nuovo gruppo e discutere tutti assieme se si vuole proseguire se a questo punto interrompiamo e iniziamo con una nuova storia che decidiamo tutti assieme comunque tenendo presente che la nuova storia o il proseguo della storia se volete rimanere la stessa campagna avrà una visione creativa diversa da quella originale e che quindi non c'entrerà praticamente nulla con la campagna iniziale tutto questo non vuol dire che potete fregarve nella campagna interromperla a caso e non portarla a termine semplicemente perché in quel periodo non ci avete voglia vi sentite un po giù di morale però al contrario non dovete neanche farne un dramma o vedere l'interruzione di una campagna come un torto personale che viene fatto la vostra opera come vi dicevo nello scorso video voi lavorate sulle saghe e cercate sempre di portare al compimento le saghe non l'intera campagna una volta finita una singola saga parlate col gruppo vedete se ci sono ancora le condizioni e l'interesse per andare avanti e andate avanti così finché non ritenete di aver esaurito l'ergamento dell'intera campagna nulla comunque vi impedisce di riprendere quella campagna più avanti o riproporla dall'inizio a un nuovo gruppo qui parlo per esperienza personale a me è successo di una campagna l'ho dovuta interrompere per quasi due anni perché sussistevano problemi nel gruppo che poi si sono fortunatamente risolti e abbiamo ripreso la campagna da dove l'avevamo cominciata e siamo ancora tutti qui e felici di raccontarlo diciamo che per questo video è tutto mi interesserebbe sapere da voi se voi avete mai finito una campagna se non ne avete mai finita una per quali motivi la vostra campagna non è mai finita o come avete fatto a tenere tutto il gruppo assieme magari per anni per arrivare al finale di una campagna fatemelo sapere nei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi i prossimi video io sono il master k e noi ci vediamo al prossimo video